Una data storica, un'infrastruttura che viene inaugurata e fra l'altro un'opera importante anche dal punto di vista architettonico che alleggerà il traffico del Fondo Valle. I primi risultati si sono già visti questa sera, quando dalle 15 in poi è stato possibile transitare su Ponte Leonardo. Ma andiamo per gradi e andiamo già da questa mattina a ripercorrere le fasi dell'inaugurazione con il momento e il ritrovo delle autorità, delle istituzioni, proprio nel tratto nuovo della variante che porta al Ponte Leonardo. Inaugurato fra l'altro con la presenza del Presidente Rossi della Regione Toscana, ma un'opera fortemente voluta dalla provincia di Arezzo nei tempi e nelle esecuzioni materiali. e quindi le maestranze del territorio che hanno lavorato anche in modo celere per arrivare a questo 21 ottobre. Allora il plauso e la soddisfazione del Presidente Roberto Vasai della provincia di Arezzo in questo nostro primo servizio, poi tutti gli altri, il Presidente Rossi e i sindaci del territorio. 21 ottobre, ore 10, il momento dell'inaugurazione del nuovo ponte sull'Arno che attraversa anche l'autostrada un'opera di alta ingegneria, un'opera d'arte più volte ha sottolineata. Si chiamerà Leonardo, Presidente della provincia Vasai, senz'altro un giorno importante perché è il giorno anche di una grande infrastruttura per l'Italia. Sì, a servizio dei cittadini del Valdano, delle nostre imprese, della sicurezza. È un'opera anche bella, insomma noi abbiamo bisogno di continuare quella grande opera che è iniziata fin dai primi secoli. Le opere pubbliche devono essere belle per poter essere anche tramandate nei secoli per chi verrà dopo di noi. Se i nostri avvi nel Cinquecento, nel Quattrocento, nel Seicento non avessero pensato ad opere pubbliche belle non avremmo questo patrimonio straordinario di arte e di cultura che ci fa grandi nel mondo. Insomma fare le opere anche come questo ponte io credo è un servizio al nostro territorio. Ben inserito nel Valdano sarà sicuramente un'opera che segnerà nei secoli questo nostro territorio. Un'opera che è stata anche travagliata per i lavori, per come sono andati avanti le varie aziende che si sono succedute nell'appalto. Un vizio tutto italiano anche di affidare i lavori? Sì, purtroppo noi nel nostro paese ci sono alcuni problemi al di là della contingenza economica e della sofferenza di tutte le imprese e del sistema pubblico anche perché abbiamo visto anche ultimamente i tagli che dovremo sopportare come enti locali per vedere se questo paese riparte. Però io credo che riuscire anche ad andare avanti nonostante tutto vi posso assicurare che non è cosa facile ma in questo caso con la buona volontà di tutti ce l'abbiamo fatta. Il presidente della Camera di Commercio Andrea Sereni Questo è un ponte che è assolutamente fondamentale per il territorio del Valdano mette in comunicazione due zone, due territori che erano letteralmente tagliati dall'autostrada Tra l'altro ci sono delle aziende importantissime, la Camera di Commercio di Arezzo ha contribuito economicamente alla progettazione del ponte, è un tassello importante oltre per lo sviluppo del nostro territorio del Valdano in maniera particolare. Al taglio del nastro del nuovo ponte è arrivato anche il presidente della regione toscana Enrico Rossi Sì è un momento di grande soddisfazione oggi perché inauguriamo un'infrastruttura in tempi di crisi e quando i lavori non vanno mai a termine, insomma in pochi anni si è realizzato un bel collegamento e anche un'opera d'arte Sì è un investimento notevole, la regione toscana ha messo ben 46 milioni credo su questa scelta, altri sono venuti importanti fondi dalla provincia, anche la Camera di Commercio ha dato un contributo per la progettazione, mi sembra un'opera moderna, bella si chiama giustamente Leonardo perché insieme ingegneria e bellezza si chiama Leonardo anche perché poco dietro qui c'è a Monte sull'Arno il famoso ponte Burano o a Burano costruito nella metà del 1200 dalla borghesia retina in ascesa e noi vorremmo una regione in ascesa, vorremmo che questo fosse un po' il simbolo anche della ripresa nella nostra regione, una regione che riesce a conciliare bene l'attrazione di investimenti la manifattura, l'industria, la modernità con le infrastrutture come questo ponte e poi anche la manutenzione e la tenuta di un paesaggio che come si può vedere su queste colline è in gran parte ancora quello che noi dovremmo provare a lasciare ai nostri figli Grazie 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 Grazie